ebbene sì il guitto prodotto in vitro a Washington Zelensky verrà ospitato telematicamente dal governo dei migliori dei sedicenti migliori a Montecitorio farà un suo intervento telematico ciò che rivela una volta di più che l'Italia ha scelto il proprio posizionamento ha rinunziato alla propria neutralità e ha dato spazio alle ragioni delle armi da subito l'ha fatto e continua a farlo il governo dei migliori ma migliori cosa a questo punto pare inevitabile domandarlo ha scelto di dare visibilità e spazio a Zelensky è chiaro l'Italia come l'Europa tutta del resto o meglio l'Unione Europea simulacro perverso dell'idea di Europa rovesciata negata umiliata hanno scelto insieme di tutelare le ragioni della guerra e lo fanno come sempre per conto di Washington rispetto a cui sono colonie senza anima vedremo cosa dirà in collegamento il guitto Zelensky al governo dei migliori intanto segnaliamo che il guitto Zelensky continua imperterrito a far valere le ragioni della guerra e non cerca in alcun modo di tutelare le ragioni della pace sta usando il proprio popolo a modi scudo per tutelare le ragioni e gli interessi della Nato nell'area post sovietica e per perorare in maniera militare gli interessi dell'espansionismo americano vedremo che cosa dirà intanto segnaliamo questo aspetto con una certa preoccupazione l'Italia meglio avrebbe fatto l'abbiamo detto a seguitare nelle ragioni della pace e invece no ha scelto le ragioni della guerra e ora si appresta a dare spazio perfino al guitto Zelensky prodotto in vitro a Washington per conto dell'interesse made in USA